ben trovati amici e benvenuti dunque alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 28 giugno 2023 e vediamo subito e per entrare nel merito appunto delle notizie chi è il santo del giorno il santo del giorno oggi è santi reneo di lione uno dei santi lione era una delle città prolifiche il fatto di santi modo particolare nei primordi della chiesa fu un grande predicatore difensore della fede dando esempio di profonda pietà verso i poveri verso le persone più fragili morì martire sotto la persecuzione dell'imperatore romano settimio severo e poi più là nel tempo fu santificato questo è santi reneo di lione le previsioni del tempo vediamo subito la grafica i giornali ci dicono che oggi sarà bello al mattino ci sarà qualche locale acquazione nell'entroterra preapenninico e nel pomeriggio i venti spirano da una direzione settentrionale sono moderati e le temperature si aggirano tra i 21 e i 27 gradi e noi come ormai facciamo tutti i giorni d'estate facciamo un'escursione sulla spiaggia per dare un'occhiata al tempo al mare e almeno idealmente gustarci l'ebrezza mattutina e qui chi troviamo troviamo Tanfani eccolo Nicola pronto con il suo sorriso a darci il buongiorno buongiorno Nicola buongiorno a tutti voi senti questa mattina mi è venuta in mente una domanda ti voglio chiedere ci sono i primi clienti che affluiscono in spiaggia nelle ore mattutine sono veramente gli anziani che cercano il fresco che magari fanno una passeggiata nella battigia per alimentare la circolazione delle caviglie oppure sono i ragazzi i ragazzi credo che si svegliano un pochino più tardi è vero sì tutto vero allora la mattina durante la settimana c'è una clientela sì più grande ragazzi incinte che magari vengono a fare una passeggiatina in acqua per gli stessi problemi delle gambe gonfie caviglie eccetera la domenica mattina invece è facile trovare qualche ragazzo che è arrivato lungo dalla notte fortunatamente qua nella nostra zona c'è il c'è lo chalet che lavorano molto bene di notte con i ragazzi in gioventù quindi quindi il sabato mattina domenica mattina capita di trovare qualche ragazzo in difficoltà diciamo il sabato sera è una è un periodo così piuttosto animato in modo particolare sulla spiaggia dell'Arzilla perché insomma ci sono dei centri di attrazione di particolare rilevanza sì dai è una zona che che lavora bene tra baretto noi Arzilla beach chalet l'animalido che comunque è l'unica spiaggia attrezzata di fanno per gli animali quindi è una zona che fortunatamente grazie a noi privati lavora bene lavora bene senti questa mattina il cielo era un po addombrato sembrava che il tempo cambiasse in realtà adesso come come lì sulle spiagge all'inizio un'ora fa un'ora fa era un po più velato adesso già si è cominciato a pulire sembra che sia una bella giornata anche oggi mare un pochino mosso però è un bene perché almeno si continua a pulire il fondale da da questo po di fango che ha portato giù la luvione e quindi quindi speriamo bene purtroppo sembra che mette un pochino di pioggia venerdì pomeriggio e sabato mattina che andrà a risporcare purtroppo il fiume c'è bandiera bianca o bandiera rossa oggi ancora rossa perché la bandiera bianca arriverà alle 10 quando inizierà il servizio di salvataggio che dura fino alle 18 però a vedere il mare oggi penso che la lasceremo rossa benissimo nicola ti ringraziamo è bello cominciare la giornata al mare almeno a chi non può avvenirci idealmente grazie ci risentiamo domani grazie buona giornata a tutti a domani e dunque apriamo il corriere adriatico questa mattina sulla pagina di fano e vediamo un articolo che riguarda la sicurezza eccolo qua il titolo sicurezza da migliorare partono le opere stradali ecco le vie in cui il comune interviene per ridurre i pericoli e rifare la segnalettica sono provvedimenti questi che vengono presi in relazione alle domande alle insistenze dobbiamo dire che i cittadini i residenti rivolgono verso l'amministrazione comunale segnalando problemi nelle loro zone nelle loro strade e quindi cercando di evitare i pericoli che incombono sulle stesse dopo aver rilevato diverse ricorrenti segnalazioni dunque la giunta ha approvato un intervento straordinario di manutenzione delle strade in modo particolare della segnaletica orizzontale particolarmente deterioratasi per l'usura del traffico quella ovviamente nelle strade a più intensa percorrenza la vernice bianca si deteriora presto ma anche per i ricorrenti temporali che si sono verificati nella nostra città riversando magari molta acqua fango e via dicendo e quindi la segnalettica ne ha risentito sono stati messi a disposizione 80 mila euro e si interviene su diverse strade ve ne segnalo alcune si interviene nella rotonda di via moriconi con via siriani che è stata un po al centro di tante polemiche e poi si interviene anche in via della pineta dove si realizza un'aiuola spartitraffico a raso con la sistemazione dei parcheggi secondo le norme per mettere in sicurezza questa via che poi delimita anche la strada la scuola elementare dei cioraggi si interviene anche in via persiuti in via murri in via calamandrei in molti punti verranno bene evidenziati gli attraversamenti pedonali mentre verranno aumentati gli spazi di sosta adibiti al carico e scarico anche nel centro storico e verranno eliminati quei pali inconguri quei pali che ormai non servono più che magari sono stati danneggiati da incidenti stradali oppure sono stati storti spostati dal vento e magari la segnaletica è cambiata questi relitti della indicazione stradale erano una bruttura e quindi anche questi vengono eliminati e poi ci saranno molti interventi per quanto riguarda i parcheggi verranno sistemati anche dal punto di vista non solo funzionale ma anche estetico perché poi la segnaletica se ben curata se ben valorizzata ha anche una funzione di carattere turistico dunque partono questi lavori ma vediamo anche come ieri è stata la giornata del saluto al vescovo armando trasarti sul corriere adriatico abbiamo il ringraziamento a lui rivolto dalla compagnia dei carabinieri di fano e anche dai carabinieri in pensione che sono stati guidati dal capitano maximiliano papale il quale ha rivolto ad armando trasarti il ringraziamento anche delle forze dell'ordine ma ovviamente vediamo che il resto del Carlino ha avuto la possibilità di descrivere il conferimento della cittadinanza onoraria al vescovo che si è svolto ieri sera dopo cena è iniziato alle ore 21 in realtà era anche un pochino più tardi e vediamo qui il titolo la città omaggia il suo vescovo e lui grazie vi ho voluto bene è una semplice espressione ma che esprime tutto il sentimento che monsignor trasarti ha nutrito per la nostra città sono stati 16 minuti riassunti e sono stati 16 anni scusate riassunti in 16 minuti di un video dove è trascorso con tante immagini una dietro l'altra tutto quello che monsignor trasarti ha fatto nella nostra città la visita all'ospedale la visita ai carcerati le funzioni religiose l'incontro con le associazioni le sue parole le sue prediche sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista civile i suoi incoraggiamenti ma anche le sue critiche rivolte alle istituzioni quando si tardava a risolvere un problema insomma dire tutto quello che ieri sera è avvenuto nella chiesa di san francesco dove sono stati presenti anche i rappresentanti istituzionali delle quattro diocesi governate da armando trasarti ebbene non è semplice fa non è facile e quindi io vi invito poi a leggere l'articolo che appare sul giornale sul resto del carlino in apertura ma noi torniamo sul Corriere Adriatico per vedere l'apertura della seconda pagina e vediamo come c'è una critica di carattere urbanistico da parte della Lega Metauriglia è senza sviluppo e l'arretramento dei binari perché si parla di Metauriglia perché nel giro di consultazioni attivato dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi per rilustrare il piano regolatore generale è rientrata anche Metauriglia e in merito all'incontro che c'è stato ci sono delle osservazioni che vengono evidenziate dal capogruppo consigliare Gianluca Ilari. Come si fa a non porsi il problema di come utilizzare il sedime della attuale ferrovia quando la ferrovia sarà spostata? È un problema che dovrebbe interessare il nuovo piano regolatore che prefigura lo sviluppo oppure le regole che governeranno la città almeno per i prossimi dieci anni probabilmente sarà ancora di più. Comunque questo è un interrogativo legittimo come si fa a non prevedere l'utilizzo di questo sedime che è una lunga via che verrà dismessa per quanto riguarda i binari ma che può essere utilizzata altrimenti. A parte un paio di rotatorie che pagherà Terna per compensare la prodo dell'elettrodotto Adriatic Link, il nuovo piano regolatore prevede per il quartiere né più né meno di ciò che è stato stabilito dal precedente PRG. Quindi secondo la Lega non ci sarebbe nulla di nuovo. Lamentata la mancata pianificazione di una alternativa appunto allo Stato esistente. Un altro articolo a fondo pagina parla del dirigente Pietro Celani che era prima capo gabinetto, poi si è dimesso da questo ruolo, però ora è stato nominato capo di una struttura con il segretario generale. A entrambi andrà uno stipendo di 110 mila euro. Completato dunque il puzzle dei dirigenti comunali, l'unico spazio ancora da riempire era quello del super dirigente al vertice degli affari generali ed è stato occupato da Pietro Celani che in un annetto ha recuperato il ruolo perso praticamente da capo gabinetto. Ebbene un impegno questo di grande responsabilità da parte del dirigente che è sempre un punto di riferimento dal punto di vista legale di tutti i provvedimenti che vengono presi dall'amministrazione comunale. A lui si fa ricorso anche qualche volta per dirimere qualche scoglio di carattere politico che ovviamente lui tratta però dal punto di vista tecnico. E voglio parlarvi anche di un'iniziativa, di un evento che si svolge questa sera nella chiesa di San Francesco. Si parla di un esploratore, di un esploratore che andò in Antartide ma nei tempi eroici. Si tratta di Shelkelston, di un esploratore che con un gruppo di amici andò appunto in Antartide. Il nome di Ernst Shelkelston è scritto ormai nell'Olimpo dei grandi esploratori. Ne parlerà il giornalista Luca Pagliari questa sera alle ore 21 nell'ex chiesa di San Francesco. Dalla voce narrante di Luca Pagliari ha affermato Michele Brocchini che è presidente del Paese dei Balocchi e sta organizzando questa iniziativa. Poi verrà anche rivelato chi sarà il sindaco del Paese dei Balocchi questa sera. Ebbene è un racconto intenso ed emozionante. Shelkelston con altri 27 uomini nel 1914 tentò la traversata del continente antartico andando incontro a peripezie, rischi e difficoltà veramente terribili anche perché i mezzi di allora non erano certo quelli attuali. Ci vuole molto coraggio, molta determinazione e anche la consapevolezza di affrontare rischi, rischi importanti fino a mettere in pericolo la vita stessa degli esploratori. Ma allora erano tempi eroici. Furti nelle case dimezzati ma le truffe raddoppiano. Ebbene questo è il resoconto di un incontro che appare sul Corriere Adriatico, di un incontro che si è svolto al Codma nei giorni scorsi dove le forze dell'ordine, in modo particolare la polizia ma anche il tecnico della banca di credito cooperativo, hanno relazionato sulle truffe, i furti, i raggiri che si compie, che i malfattori compiano in modo particolare nei confronti degli anziani. Il tema era veramente di grande interesse e i relatori tra i più esperti. Fatto sta che ha riscosso la presenza di molte persone, il convegno organizzato appunto dalla comunità Fano-Flaminia-Cesano in collaborazione con la BCC di Fano e la Proloco, a ospitarlo la grande aula del Codma dove un tempo si tenevano le lezioni universitarie. Si è parlato di furti, di truffe, di danni ai persone fragili e agli anziani. Sono stati dati i consigli per trascorrere un'estate serena, una stagione che tuttavia è sempre più a rischio, perché il caldo invita a dormire con le finestre aperte, perché magari qualcuno va in vacanza e lascia la casa disabitata, perché qualcuno distratto se ne va magari a fare la spesa lasciando la porta aperta. Ci sono insomma delle precauzioni da assumere per rendere più difficile la vita ai ladri. Passiamo ora alla Val Cesano, ci fermiamo a Mondavio dove si è svolta una iniziativa importante dal punto di vista turistico e ambientale. Vessillo Arancione a Frontone, a Mondavio la festa regionale. Domenica il ritrovo di 26 comuni premiati dalla bandiera del Touring Club, un vessillo che ha un forte significato emblematico. Il marchio infatti ha una validità temporale, viene consegnato per tre anni e poi al termine di questo periodo il Touring Club italiano certifica di nuovo l'idoneità dei comuni che hanno assunto la bandiera a ripeterla di nuovo. È una bella iniziativa. Il riconoscimento viene assegnato alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turismo anche un'accoglienza di qualità e questo è un merito delle persone. Se le persone sono gentili, sono ospitali, ovviamente il turista si sente a suo agio e per questo le località vengono premiate. Bella bella iniziativa. Passiamo a Senigallia. Senigallia si attua un provvedimento molto semplice ma molto significativo e importante. Si libera il lungomare dai bidoni della mondezza. Insomma metterli in evidenza questi bidoni non è certo l'ottimo. Allora il titolo dell'articolo via la vergogna, bidoni dal lungomare. Trovata la soluzione con la cooperativa. Non ci voleva tanto onestamente. Gli addetti li prenderanno dalla spiaggia questi bidoni di notte. Stop all'indecoroso slalom dei turisti tra i rifiuti. Ebbene dalle venti in poi sul marciapiede del lungomare c'erano questi bidoni che poi erano pieni di rifiuti. Magari qualcuno ospitava anche residui di pesce da parte dei ristoranti e l'odore non era certo tra i più gradevoli. Ora tutto questo viene rimosso. Giriamo la pagina. Sulla pagina di Pesaro dove vediamo che l'apertura è dedicata, come spesso accade tutti i giorni, diciamo, vacanze al mare. Meglio in affitto con case. Bed and breakfast si sfiora il sold out. Ebbene questa è un po' una concorrenza tra chi va in hotel e chi va invece in una casa d'affitto. Sembra che coloro che scelgono quest'ultima soluzione siano in aumento. Privati oggi più propensi ad una locazione stagionale piuttosto che annuale. Ormai si sa, è un dato di fatto, ma sono disposti anche a investire e migliorare gli arredi all'interno delle abitazioni. Ci sono quei privati che hanno case da mettere in affitto, che non se la sentono di affittarle per tutto l'anno, proprio perché magari trovano problemi con gli inquilini. E allora si limitano a dare in affitto i loro appartamenti solo in estate, per due o tre mesi. Ovviamente l'affitto è considerevole per questo periodo. Non è certo l'affitto annuale di una casa che viene data in locazione secondo i prezzi di mercato. Questa comunque è una nuova tendenza delle case vacanza a Pesaro. Non si trova quasi più un apportamento libero o in alta stagione per una coppia e una famiglia. Questi mesi ormai sono tutti occupati. Ma non solo. Il trend vede un numero sempre più crescente di bagnanti e vacanzieri, per lo più italiani, amanti del turismo di prossimità. Cosa fanno? Cercano case in affitto piuttosto che prediligere la vacanza anche di una sola settimana in hotel, dove si è poi serviti di tutto punto. Ma forse il fai da te sta assumendo la supremazia. Vediamo altri titoli. Vediamo questo articolo che riguarda la scuola, la scuola Mascarucci, che è stata danneggiata dal sisma. I bambini trasferiti in Viale Trieste. Parte il risico delle scuole che cambiano sede. Protesta social dei genitori. Si tratta di 250 alunni della scuola Mascarucci di Soria Alta, che insieme agli studenti delle medie della Dante Alighieri e quelli dell'asilo di via Rigoni dovranno cambiare sede. Ma tra i genitori serpeggia il malumore. Via dalla scuola per i danni del sisma. Ebbene, fino ad oggi non c'erano dei rischi, perché il sisma insomma non è che è avvenuto ieri. Nessuna comunicazione è stata data alle famiglie. Lo veniamo a sapere dai social. L'università va a Muraglia aspettando il San Domenico. Questi sono un po' gli spostamenti che verranno attuati in seguito poi a tutto quello che è accaduto nei giorni, diciamo ormai nei mesi scorsi. E quindi parliamo di maxidiscarica. C'è stato un nuovo scontro in merito alla discarica di riceci. Questo nuovo sito, che dovrebbe poi occupare una zona dove riversare i rifiuti di tutta la provincia. Ebbene, c'è stato uno scontro all'interno del Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi. Non passa il documento del Presidente Pierotti. Proposta una strategia di uscita, ma la discussione è rinviata, segnalata la responsabilità contrattuale. Anche qui continuano le polemiche. Vediamo sul resto del Carlino. La città omaggia il Vescovo, l'abbiamo già visto. E qui invece abbiamo un lutto. Tutta la Flonal si ferma per l'addio a Paolo Rossi. Si tratta di un dipendente ragioniere che lavorava nell'azienda da 30 anni. Si tratta dell'azienda guidata da Paolo Andreani che si ferma per rendere omaggio a questo suo dipendente che purtroppo è deceduto in giovane a soli 56 anni per un male incurabile. E vediamo qui l'articolo che lo riguarda, che esprime tutto il dolore dei compagni di lavoro, oltre che quello dei familiari, degli amici, dei parenti. Un altro articolo che riguarda invece la cronaca, lo vediamo qui in questo trafiletto. Semiquerelate, uso il piombo a processo allo stalker dell'ivicinato. Ebbene martoriava una coppia di vicini per quanto riguarda una strada che attraversa le due proprietà e questo stalker è stato portato, è stata di un sessantottenne, è stato portato a processo. Marina De Cesari riaprono ristorante e bar. Dopo tre anni l'imprenditore senigallese Paolo Piccinini, per tutti il capitano, prende la gestione del locale per un anno. Lo vediamo qui in questa fotografia. A Monte Ciappellano vediamo che la consigliera di opposizione, Luisa Ceccarini, evidenzia come la frazione sia priva di marciapiedi e necessita di molti servizi pubblici che mancano. A Urbino il sigillo della Università a Moratti, Massimo Moratti il patron, diciamo così, dell'Inter e poi di tante imprese che ha fondato, l'umanesimo scientifico. Un imprenditore illuminato, un imprenditore di grande sensibilità umana. E poi vediamo anche degli argomenti che sono stati trattati anche nei giorni precedenti. I busse tornino in piazza anche dopo le 17.50. Ebbene, questa volta Giorgio Londè e Federico Cangini raccolgono l'appello lanciato dal poeta Umberto Piersanti. E voglio concludere la nostra rassegna stampa con un dipinto in prestito alla Galleria delle Marche di Palazzo Ducale con un quadro di El Greco. Si tratta di Dominikos Teotokopoulos, scusate, è un nome un po' difficile il greco, lo chiamiamo il greco perché così viene menzionato da tutti i libri di storia dell'arte, sarà un prestito per alcuni mesi nelle sale del secondo piano, un motivo in più per andare a visitare Palazzo Ducale. E qui noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani alle 7. Grazie a risentirci, buona giornata. Grazie a tutti.